Credo che la prospettiva non sia quella di continuare a coltivare quelli che possono essere stati gli elementi di divisione passati perché dobbiamo renderci conto del fatto che le lotte ambientaliste vengono fuori anche sulla base di progressive conoscenze e di progressive consapevolezze. Questo forse vale un po' per tutte le lotte, però direi che specialmente nella materia ambientale noi per esempio da due mesi sappiamo con assoluta certezza, prima c'erano certamente dei sospetti, ma con una certezza non dico assoluta perché non è ancora nemmeno assoluta, ma molto maggiore di alcuni effetti dei PCB perché alcuni ci dicevano che i PCB erano innocui, altri dicevano sì però non lo sappiamo bene, altri dicevano no guardate che non fanno bene assolutamente, eccetera. Perché? Perché purtroppo sono anche materie legate in qualche maniera alla conoscenza scientifica, a tutta una serie di cose di questo genere. e se andiamo indietro negli anni della Caffaro, quando i PCB lo producevano, per esempio qual è stato il problema rispetto al quale noi quando è venuta fuori la questione nel 2001 e ci siamo interessati anche a livello giudiziario di questa storia, lasciamo perdere perché la questione della Costituzione di parte civile è una marronata, scusate, è una cazzata giudiziaria, cioè dal punto di vista giuridico perché anche legambiente che io rappresento si era costituita ma non parte civile perché non si poteva, si è costituita parte offesa perché abbiamo cercato di metterci il naso dentro. Però lì, anche lì, che cosa succedeva? Si trattava di fatti remoti, non c'erano leggi adeguate perché il decreto legislativo 152 è venuto ben dopo, sì c'era qualcosa ma allora negli anni 80 niente di niente, eravamo nel medioevo, avevamo persone che in parte erano morte, in parte si erano disperse per il mondo e via discorrendo, quindi a un certo punto va bene noi abbiamo anche fatto la mossa a Zaldà, qualcuno non l'ha voluta fare e io non sto qui certo a difenderlo, però il problema è che effettivamente già allora avevamo poco, molto poco in mano, oggi forse riusciamo ad avere di più, la prescrizione oggi è sicuramente decorsa per tutto, è tutto molto insepolto, ma se ci sono, se ci sono, sì beh la prescrizione non possiamo trattare tutti i reati come se fosse la, scusi non sono per ora, insomma io ho idee un po' diverse su questo, credo anch'io che la prescrizione dei reati potrà essere allungata, ma non può essere, non può essere, i crimini contro l'umanità però diciamo che hanno anche altre caratterizzazioni, ma adesso non entriamo, mi sembra che andiamo, stiamo andando un po' su delle secche un po' fuori insomma dal nostro, quello che voglio dire io, se smette di interrompermi, è che, così faccio anche prima naturalmente, è che queste progressive conoscenze oggi ci portano evidentemente ad avere delle consapevolezze rispetto alle quali non è il caso secondo me tanto di rinfocolare delle polemiche a, diciamo, di ritorno o comunque passate, quanto invece il fatto di vedere di ingrossare la compagnia e di aumentare quindi la pressione, una pressione che evidentemente può anche coinvolgere chi in passato è stato magari incerto o addirittura chi è stato indifferente, quindi secondo me quello che è oggi il livello di consapevolezza costituisce una base molto buona per costituire, costruire un movimento molto molto più forte, molto più articolato e specialmente più agguerrito, questo è quello che secondo me è importante e allora, che cosa vogliamo e che cosa possiamo fare sulla base di questo discorso? Io credo che non sono del tutto d'accordo sulle considerazioni per esempio che faceva Marino prima, perché è vero che il Ministero dell'Ambiente ha dei grossi tecnici importanti, però è anche altrettanto vero che il Ministero dell'Ambiente poi copre tutto con la sua cappa burocratica e rallenta ulteriormente i tempi, oltretutto impedisce anche un certo tipo di operatività a livello locale e allora se noi invece, come è stato detto nelle ultime battute che hanno preceduto il mio intervento, se si facesse invece un piano e si cominciasse studiando e mettendo appunto, abbiamo tutti gli elementi della caratterizzazione della Caffaro, sappiamo dire dove ci sono le concentrazioni maggiori, sappiamo individuare anche i luoghi di maggiore criticità, allora se cominciassimo a mettere in piedi un piano che magari per settore comincia a dire questa zona, cominciamo da questa zona, andiamo avanti su quest'altra zona eccetera, cominceremmo a ripulire questo scacchiere che è determinato dalla zona Caffaro e potremmo a questo punto cominciare a fare quel piano per il lavoro di cui parlava anche prima Pino che è secondo me un piano utile anche dal punto di vista del rilancio dell'economia e del rilancio delle attività, perché? E allora questo lo si può fare, lo si può fare certamente chiedendo soldi però non chiedendo i soldi come è stato fino adesso, un po' a babbo morte, dateci i soldi che poi facciamo perché se noi chiediamo i soldi e lo diciamo perché abbiamo un piano per cui vorremmo cominciare a intervenire qui poi vedere questa cosa, innanzitutto questo consentirebbe di avere risorse più limitate e quindi interventi più copribili sotto il profilo finanziario, però consentirebbe anche di poter andare a battere cassa con maggiore forza, perché quando uno dice io sono pronto per fare questo a questo punto i soldi me li dai e voglio anche vedere con che faccia ti vengono a dire no i soldi io non te li do, perché il problema oggi quello che abbiamo è evidentemente quello di renderci conto ma è anche quello di superare determinate situazioni, perché noi questo problema dell'inquinamento caffaro lo dobbiamo pur risolvere, è passata un'infinità di tempo, troppo, siamo tutti d'accordo, penso è ovvio e banale ma lo dobbiamo cominciare a risolvere e allora fare un piano per il lavoro di bonifica e che possa sorgere anche in sede locale, essere proposto in sede locale perché ormai le conoscenze e le consapevolezze le abbiamo e a questo punto secondo me è la strada